Ciao a tutti, oggi ci troviamo a John Forest National Park nei dintorni di Perth. Vi voglio presentare questa straordinaria pianta che si chiama, comunemente chiamata Grass Tree, è una xanthorrea, è una pianta endemica dell'Australia. In particolare vi voglio raccontare una strategia che adotta questa pianta in presenza di incendi. Infatti gli incendi qui in Australia, soprattutto nell'angolo, in questo angolo sud-ovest, sono molto frequenti, dove c'è appunto molta vegetazione, dove ci sono foreste di eucalipto. Per affrontare questa ricorrenza, questi eventi che avvengono in maniera ripetuta, che da un lato arricchiscono il terreno, queste piante presentano un tronco che resiste in maniera straordinaria all'incendio. Infatti dopo gli incendi noi troviamo queste distese di foresta quasi completamente bruciate, ma a distanza di qualche settimana già questa pianta è in grado di rigettare nuove strutture fogliari, che in questo caso sono queste strutture che si vedono qui. Che dire, è una strategia di adattamento davvero sorprendente.